Allora, in pratica, la tavola periodica è una tavola di Mendeleev, fu costruita da Dimitri Mendeleev mettendo uno vicino all'altro gli elementi con proprietà analoghe e così potè prevedere che, siccome c'erano dei buchi in questa tabella, mancavano degli elementi ancora non scoperti. Per esempio, il carbonio, il silicio e lo stagno hanno proprietà simili, però nell'elenco, ordinandoli quanto a numero di massa, perché allora il numero atomico non era però conosciuto, c'era un posto vuoto e questo posto vuoto fu repito molto tempo dopo quando fu scoperto il germanio, che infatti ha proprietà analoghe come quella del silicio, infatti il silicio e il germano sono i due, chi si ricorda dell'anno scorso, il silicio e il germano sono i due elementi che sono chiamati semi? Semi conduttori. Benissimo, il germano si usa poco perché è costosissimo, però è molto migliore del silicio ovviamente. Allora, comunque, eccolo qua. Allora, come fare, perché si assegna un elemento, come faccio a costruire la struttura elettronica? Di questo, anzitutto, la tavola per i blocchi, dalla tavola periodica fatta a blocchi, che qui vedete fatte di colori diversi, e ogni blocco rappresenta un diverso tipo di orbitali che vengono riempiti. Quando io ho i primi due elementi, quindi idrogeno e elio, come abbiamo già visto la volta scorsa, io riempio naturalmente, sono a livello K, quindi N uguale a 1. Se ha qualche problema, Marta, mi interrompa, d'accordo? Ok? Sì, sì, va bene. Con N uguale a 1 posso avere soltanto N uguale a 0, che corrisponde soltanto all'orbitale S, che è quello di simmetria sferica. Se vado sul libro che stiamo usando per spiegare questa cosa, il capitolo è questo, la fabbrica degli elementi, e quindi bisogna andare su una nuova tavola periodica. Eccolo qua, avete anche un doodle dedicato appunto a Dimitri Mendeleev. Abbiamo visto che questi orbitali hanno, sto cercando, naturalmente quello che cerco una cosa non la trovo, come al solito, perché era su in alto, è quella più sopra, eccola. Ecco, gli orbitali 1S hanno simmetria sferica, questo lo chiamerò 1S perché siamo nel primo livello, e M uguale a 0. Ed è ovvio che ho una sola distribuzione spaziale, perché la sfera ha la stessa simmetria in tutte le tre direzioni XYZ. E siccome il numero quantico di spin può avere solo due valori, allora chiaramente qui ci possono essere soltanto due elettroni, uno messo così e l'altro messo opposto. Questo si scriverà 1S1 e questo 1S2, e questo è l'elemento idrogeno e questo è l'elemento elio. Quindi siamo, come vedete, qui in alto, quello che mi è chiamato il blocco S, cioè siamo i primi due, idrogeno ed elio là in alto. Poi, che cosa succede? Quando vado al successivo, devo andare al livello energetico L, quindi guscio, shell, quindi n è uguale a 2, L può avere due valori, o 0 o 1. Ma allora, L è uguale a 0, corrisponde soltanto n è uguale a 0, e quindi abbiamo un unico orbitale simmetria sferica, che lo chiamerò 2S per distinguere dal precedente. E allora, assodato che avrò sempre l'orbitale 1S pieno, allora qui avrò l'orbitale 2S, questo, vedete, una volta con un elettrone e una volta con entrambi gli elettroni cospino opposti, e così ho creato altri due elementi, che non sono altro che il litio e il veridio, che naturalmente avranno scrittura 1S2, 2S1 e 1S2, 2S2. Signor Venturini, è chiaro questo concetto fin qui? Sì, sì. Bene. Se L è uguale a 1, invece, si può dimostrare, risolvendo l'equazione di seregrederato di idrogeno, scusate, non era qui, si può dimostrare che questo orbitale ha una forma bilobata, e si può passare da un volo a volo all'altro solo per effetto tunnel. M, scusate, eccolo qua, L uguale a 1, corrisponde a tre valori di M, perché M è compreso tra meno L e più L, e quindi L uguale a 1 può avere M uguale a meno 1, oppure M uguale a 0, oppure M uguale a 1. Questo corrisponde all'orbitale P, che naturalmente sarà 2P, perché siamo nel secondo livello energetico, e questo corrisponde alle tre situazioni spaziali 2PX, 2PY e 2PZ. È d'accordo, signorina Chiara, con questo? Sì, sì. Quindi, a parte i primi, 1S, 2S, che sono già tutti impegnati, allora io potrò avere qui i tre orbitali 2P. Allora, inizialmente si mette un elettrone qui, e avrò il boro, che avrà una struttura naturalmente 1S2, 2S2, 2P1. Poi, ne devo mettere un altro, ma attenzione, perché quando ne metto un altro, non va nello stesso orbitale, va qui, perché c'è una regola che mi dice che gli orbitali preferiscono, scusate, gli spin preferiscono mettersi il più possibile tra i loro paralleli, finché possono. L'ha spiegato il professor Carlentini questo, vero? Margherita, che l'ha spiegato? L'abbiamo fatto, non so se abbia precisato, perché a volte magari vi facevano... Dunque ve l'ho preciso io. Sì, però comunque no, questa cosa degli orbitali sì, l'aveva detto. Benissimo. E allora, questo qua naturalmente sarà il... È il sesto elemento, chi di voi sa qual è? Il carbonio, fondamentale per la vita, e sarà 1s2, 2s2, 2p4, sì, 2p2, scusate, perché 2p4, 2p2. Poi vado a pagina nuova, sto utilizzando vecchi gemme. In questo caso, dando sempre per il scuotato che i periodi due sono pieni, stavolta il terzo orbitale si mette... Il terzo spin si metterà anche lui parallelo in questo orbitale, e allora avremo 1s2, 2s2, 2p3, e questo sarà l'ossigeno, che infatti, come vedete, ha... Siamo in questa situazione, giusto? Allora, poi, ed eccolo qua, come vedete, nella tavola periodica, sbagliato, è l'azoto, scusate, sarà l'azoto, eccolo qui, si chiama azoto da azos, non vita, perché l'aria è formata a due gas, ossigeno e azoto, e l'azoto negra, nella vita di perdere l'ossigeno. Poi abbiamo il... L'ossigeno adesso sì, che però, devo cominciare a riempire, lo spin messo in maniera opposta, quindi qui, quindi sarà 1s2, 2s2, 2p4. Ovviamente, quando ci metto il... Quinto, scusate perché ho fatto male, quando ci metto il quinto spin, quinto elettrone, sarà messo così, e quindi sarà 1s2, 2s2, 2p5, e questo è il fluoro, il primo degli halogeni, e alla fine, quando metto anche il sesto, lo riempito tutto, e di conseguenza, avrò una situazione fatta così, con anche questi due pieni, e quindi avrò 1s2, 2s2, 2p6, e questo è il neon. Notate che quando ho una struttura esterna completa, allora non ho elettro a disposizione per formare legami covalenti, sono in questa situazione dell'elio, e in questa situazione del neon, e quindi questi gas sono chiamati gas nobili, perché come i nobili non si mescolano i plebei, così i gas nobili non si possono mescolare con altri elementi, in realtà non è vero, perché si conoscono composti dei gas nobili, dell'oxeno, del kripton, è solo che, scusatemi un secondo ragazzi, un secondo solo, scusatemi un secondo solo ragazzi, 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 scusatemi ragazzi, ma nei momenti più o meno opportuni vanno a suonare il campanello, accidenti, scusatemi eh, è anche caduto il tablet prima, l'avete sentito? Bonca fatta, perché ovviamente mi sono fortuna che non si è rotto, allora dicevo che, questo qua è tutto chiaro la costruzione di cui, si sta dicendo che kripton e xen, altri elementi nobili, possono fare composti, grazie a recitazioni di elettroni, ma sono molto instabili, perché questi elettroni tendono a ricadere nei loro stati, e quindi i composti sono molto difficili da ottenere, d'accordo? Poi, gli altri elementi come faccio? Tornando a noi, come vedete, dopo, naturalmente vado a riempire, come avete capito, il gruppo M, lo shell M, giusto? Shell M, e naturalmente la shell M è N uguale a 3, e quindi io mi aspetto di formare, di avere il 3S e il 3P, perché? Perché N uguale a 3 corrispondono L uguale a 0, L uguale a 1, ma mi aspetto anche un 3D, perché avrò anche l' uguale a 2, e l'orbitale D, come vedete, ha queste forme possibili con 4 lobby. Levate già viste cose del genere, signorina Miriam, col professor Carlentini, queste forme di orbitali? Mi siete Miriam? Sì, mi sembra forse al terzo anno, o secondo anno. probabilmente al terzo, secondo me. Comunque, questi sono gli orbitali D, ma attenzione, perché? Adesso non sto qui a fare tutto il discorso, naturalmente perché è lungo, però prima riempio il 3S, e forniamo gli elementi, il sodio e il magnesio, poi arriviamo a riempire il 3P, e quindi abbiamo altri sei elementi, che sono in ordine alluminio, silicio, fosforo, zolfo, cloro e argon. D'accordo? A questo punto dovrei riempire il 3D, giusto? Che, naturalmente, voi sapete che l'orbitale 3D corrisponde a L uguale a 2, e a L uguale a 2 corrisponde a M uguale, a meno 2, meno 1, 0, 1 e 2, giusto? Mi sa che mi devo muovere di nuovo, ragazzi, cavoli, quando si sta lavorando, a carta. Ho sentito anche le parole io, vabbè, che cosa devo fare? Quando M è uguale a meno 2, meno 1, 0, 1 e 2, così facendo, avrò 5 tipi di orbitali, come vedete, che sono proprio quelli che vedete rapprettati qui. Non tutti sono quadrilobati perché uno, come vedete, due lobby diventano dietro un cerchio, qui delle forie veramente esotiche. Allora, in questo caso succede che dovrei riempire questi orbitali, invece no. Perché? Perché si dà il caso che vengono riempiti i priori orbitali con l'energia più bassa e si dà il caso che il 4S che viene subito dopo ha energia più bassa del 3D, quindi riempie prima gli orbitali 4S e si formano gli elementi potassio e calcio, poi si dovrebbero formare quelli del 4P, giusto? Quindi, gallio, germano, arsenico, selenio, bromo e critton. Invece no, prima riempiamo gli orbitali 3D che avevamo lasciati indietro. Quindi, come vedete, gli orbitali 3D sono riempiti nella quarta riga della tavola periodica, giusto? E non nella terza per questo motivo, perché hanno un'energia copresa tra il 4S e il 4P, d'accordo? in questo caso, poi, naturalmente, dovrà riempire, chiaro tutti, fin qui, signorina Marta, lei nello scorso non c'era, l'ha capito come si riempie fin qui la tavola periodica? Sì, sì, per ora è chiaro. E lei, Alberto, è chiaro? Sì, sì, è chiaro. Bene, allora, scusate per interruzioni, ma purtroppo quando si fanno lezioni in casa, che cosa devo fare io? In questo caso, subito dopo, naturalmente, avete capito che noi siamo adesso nel N, giusto? Quindi abbiamo riempito il 4S e il 4P, le abbiamo già riempiti, e in mezzo abbiamo riempito tra questi il 3D, tra questi due, giusto? Poi dobbiamo riempire il 4D. Invece no, prima del 4D come vedete si riempie 5S e si formano rubidio e stronzio, poi si riempie il nostro 4D del precedente, giusto che restava indietro, d'accordo? E poi si riempie il 5P. Quindi, per farla breve, come vedete, questa zona qua, guardate, è spiegata meglio su questa cosa qui, su uno schema che ho fatto, aspettate che lo devo trovare, eccolo qui, come vedete, ogni blocchetto della tavola periodica corrisponde a un tipo diverso di orbitali che si riempiono, giusto? Quindi, il rossi in alto è l'1S, questo poi il 2S, poi il 2P, il 3S, il 3P, poi dobbiamo riempire il 3D e invece prima il 4S, poi riempio, regolarmente il 3D, poi regolarmente il 4P, poi dovrei riempire il 4D, no, prima riempio il 5S perché è un'energia più piccola, poi il 4D, poi il 5P, però il D ha anche F, perché voi sapete che l'N, oltre a 4S, 4P e 4D, ha anche il 4F, giusto? perché se n è uguale a 4, l può avere i valori 0, 1, 2, 3, e se l vale 3, sono meno 3, meno 2, meno 1, 0, 1, 2, 3, quindi ho anche gli orbitali F che si riempiono, e invece, prima, come vedete, del 4F si riempie tutt'altro, il 5P, il 6S e solo dopo il 4F, fino ad arrivare, così via, fino al 5F. Per ricordare questi, l'eripimento è stata elaborata la regola di Hund, no, scusate, di Madeleung, la regola di Hund è un'altra, la regola di Madeleung che è quella che mostra l'ordine con cui vedo ripiti gli elementi e gli orbitali, 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F e si riempiono secondo un andamento in diagonale, prima l'1S, poi, come vede, il 2S, poi il 2P, il 3S e così via, in questo modo, come mostra questa regola, vedete, il 3P, il 3D, eccetera, solo che naturalmente, questo non è un'altra, regola tanto semplice da ricordare, è più semplice avere davanti come faccio io la tavola periodica, se io prendo la tavola periodica, riesco automaticamente a costruire la configurazione elettronica, ricordando che questo qui, come vedete, a sinistra rappresenta il blocco il blocco invece, questo qui a destra, scusate, questo rappresenta il blocco S, questo qua a sinistra, questo qua a destra, che vedete, rappresenta il blocco P, questo in mezzo ha aperto il blocco D, il blocco F andrebbe ficcato qui tra S e D, e invece viene messo sotto per evitare che la tavola periodica diventi lunghissima, però, volevo dirvi che ci sono alcune curiosità in cui la tavola periodica è stata disegnata in altri modi. Guardi un po', Marta, questo modo geniale di costruire la tavola periodica, ha visto? Sì, ma non penso, cioè non capisco come... Come è fatta? Ebbene, è semplice perché qui c'è la prima, la prima colonna è idrogeno-lizio, è questa, quella a sinistra, poi viene la seconda, vede, poi in mezzo ci dovrebbe essere la 4F che dovrebbe stare qui in mezzo, invece la mette qui, poi il blocco F, poi mette il blocco D e poi riprende con il blocco P, vede, con lavoro, carbonio, azoto, ossigeno, fluoro e neon e qui in pratica la richiude a cerchio, prende questa, richiude a cilindro e così facendo la... in questo modo sono tutti in fila e anche l'F è nel posto giusto. Cosa dice? È geniale, dai, eh? Vero. Addirittura poi qualcuno ha provato con delle cose veramente assurde, guardate, The Underground, Mark of the Hermes, addirittura la tavola degli elementi come se fosse la metropolitana di Londra con tutti gli elementi con colori diversi secondo delle proprietà, per esempio questi qua blu scuro sono gli alogeni, vedete, lo iodio, il bromo, il cloro, il fluoro, giusto? insomma, come vedete li hanno invaginate di tutti i sistemi. Cosa dice Martina di questa cosa qui? Abbastanza ingegnoso. Guardi questo addirittura che ho trovato in rete, un'auto britannica con la targa britannica è decorata con tutta la tavola periodica esterna. Adesso che avete... adesso quando fate i 18 anni vi fate comprare anche voi un'auto così... a tutti l'avete fatta i 18 anni. Stanno la Marta e lei Marta le manca, vero? No, no, li ho fatti anch'io. Cavoli! Allora, comunque se le faccio regalare un'auto così decorata così, cosa ne pensa? È interessante. Tutti la guarderebbero quando va in giro. Comunque, come si fa? Così finiamo all'ezza di oggi. Come si fa? Nota la tavola periodica a costruire le configurazioni. Allora, consideriamo, sposto qui vicino questo in modo che non devo spostarlo più lontano. Supponiamo che io voglio costruire la configurazione elettronica del, per esempio, non faccio del fosforo che è qui. Lo vedo subito. Ovviamente se ve lo do vi do anche il numero atomico così lo trovate facilmente. Ricordatevi che si scrive così. Guardate. Aspettate. Si scrive così. fosforo 15. Questo è il numero atomico. Lo vedete? Il numero di massa invece lo si mette là in alto. Sempre così, giusto, esatto. Poi, però questo lo vedremo dopo. Allora, il fosforo, come vedete, tanto per cominciare avrebbe prima tutte queste strutture, per la prima volta ve le scrivo. riempie prima l'1s2, poi, come vedete, riempie l'iceberilio, quindi il 2s2, poi, dall'inordine, riempie dal voral neon, quindi 2p6, poi andiamo, come vedete, al 3s, quindi 3s2, poi saltiamo e arriviamo qui al 3p, e noi siamo 1, 2, 3, il fosforo il terzo, e quindi 3p3. Signor Alessio, ha capito? Sì, prof. L'ho accetto anche in maniera più semplice, perché 1s2 è leglio, mentre 1s2, 2s2, 2p6 è neon, quindi l'ho accetto anche scritto neon 3s2, 3p3, cioè soltanto partire dal numero atomico, dal gas nobile più vicino, il fosforo, partire dal neon. Occhio però, che ve lo posso chiedere anche scrivere quello completo, è ben inteso, però di solito mi ha accetto anche di questo. Proviamo il manganese, il manganese è 25, il manganese è un elemento dei cosiddetti metalli di transizione, perché si trova qui in mezzo, in questo blocco rosa, questi sono tutti metalli, vedete questa scala qui, boro, silicio, arsenico, tellurio, astato, questo è quello che separa i metalli e i non metalli, la maggior parte sono metalli, gli elementi sono metalli, d'accordo? Allora, ecco qua i metalli di transizione, i metalli più forti sono quelli del blocco S, infatti il sodio esplode se messo in acqua, tanto energetica la reazione. Il manganese mi riferisco al gas nobile precedente che è l'argon, lo vedete? Quindi scriverò argon, così. poi vado a vedere che subito dopo l'argon c'è 4, il 4S, quindi riempie il 4S, 2, e poi naturalmente mi riempie, come vedete, il 3D, questo non è il 4D, è il 3D, fa parte di quello precedente, come vi ho mostrato con quest'altra tabella qua della costruzione della, adesso bisogna che la ritrovi, ecco questa, che mostra come si riempiono i singoli vitali, questo è il 3D, i D sono abbassati di 1 e gli F di 2 è d'accordo rispetto al resto, quindi sarà 4S2, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 3D5, l'ha capito signor Venturini? Chiaro? Sì, sì. Bene, proviamo a vedere sulla stessa riga il germanio che ho nominato prima, ovviamente così, nominato da qualche chimico tedesco, il germanio per la precisione è 32, allora in questo caso scriverò sempre argon e sempre 4S2, ma stavolta 3D10 perché stavolta li ho occupati tutti, vedete? 3D10 sono tutti e poi riprendo con 4P, 4P2 perché è il secondo elemento, visto? Proviamo con l'Europio, in questo momento in cui le destre sovraniste vincono un po' in tutta Europa, dedichiamoci all'elemento dedicato all'Europa, ovviamente il, scusate, l'Europio sta qui ed è nel blocco F, questo qua dorato vengono chiamati i lantanidi o terre rare, perché sono le vite che sulla terra sono rarissime, mentre sono comuni nelle meteoriti per esempio, infatti siccome sono utilissimi per la tecnologia elettronica, soprattutto l'isprosio, il gadolinio, l'erbio e lo stesso Europio sono utilissimi, allora c'è chi già progetta missioni per andare a fare delle miniere negli asteroidi tra Marte e Giove, becca la trinchetta, ci vorrà tempo prima di arrivarci, comunque io voglio fare con l'Europio, ricordate che l'Europio va dove c'è questo qui, dove c'è questo asterisco, d'accordo? Allora in questo caso che cosa succede? Vengono chiamati anche lantanidi perché vengono da qui lantanio, ok? Allora in questo caso io avrò che l'elemento, il gas nobile precedente è lo xenon, xenon vuol dire straniero in greco, da qui xenofobia, vedete che invece Crypto è nascosto e neonuo e radon radioattivo Argon va bene la nave Argo il mio cane Argo naturalmente ebbene vedete che prima dell'Europio c'è l'antanio quindi siamo nel gruppo 6 e quindi riporto xenon e poi 6s2 ha capito Alberto? Sì prof poi c'è l'antanio e questo vi ricordo che i d sono di uno indietro quindi questo sarà il 5 di uno quindi qui viene messo 5 di uno e va messo e poi vengono riempiti i lantanidi che sono 4f e siccome l'Europio è 1,2,3,4,5,6 allora sarà 4fs d'accordo? Serena Rebecca Febe l'è chiaro? Sì sì è chiaro Bene se proviamo ancora con un altro con la Stato la Stato è una sostanza radioattiva che rientra nella categoria degli halogeni cioè nei generatori di sali e ha numero atomico come vedete 85 quindi altissimo vi ricordo che l'ultimo elemento come vedremo più avanti che ha isotopi stabili l'ultimo conosciuto è il piombo ai miei tempi si diceva che era il bismuto invece oggi si sa che è il piombo vabbè in questo caso poi vi spiegherò il perché si parte sempre dallo xenon che è quello prima solo che stavolta devo vedete che prima c'è lo xenon c'è 6s2 5d1 e stavolta i 14 del 4f sono tutti pieni perché 14 perché m ha 7 valori possibili perché l in questo caso vale m vale 3 giusto e quindi in questo caso sicuramente abbiamo meno 3 meno 2 meno 1 0 1 2 3 se l vale 3 questi sono 7 e 7 per 2 ogni orbitale può ottenere due elettroni 14 e quindi questo qua 4f14 poi sono riempiti tutti gli altri del 5d e quindi saranno siccome sono in tutto 10 5d9 e poi me ne mancano come vede te u no scusate ho sbagliato non sono riempiti sì sì è giusto 5d9 sono riempiti tutti poi mi mancano quelli del 6p 1 2 3 4 5 e quindi 6p5 ed ecco come dovete costruire le le configurazioni elettroniche sono stato chiaro ragazzi lei romeo ha capito ha dei dubbi non ho capito grazie allora proviamo a farne qualcuno insieme così vediamo se avete capito dunque cara cara Rossella mi sente sì lei come se la cavava in chimica molto male prof non me la cavo ancora bene beh con la chimica organica poi vede lo lo zolfo 16 sì ok bene allora un attimo che qui scriva pagina nuova zolfo 16 no scusate qui allora guardi un attimo un po' lo può anche tenere davanti a parte sul suo computer allora mentre io la scrivo lei tenga la parte che non ce l'ha aperta allora guardi qual è l'elemento il gas nobile prima dello zolfo aspetti che mi sono preso lo zolfo è qui il fosforo no gas nobile gas nobile precedente aspetti il gas nobile precedente aspetti anche il neon benissimo nessun problema qui sia tranquilla qui il neon e qui scrivo neon poi dopo il neon vede che sono sulla terza riga giusto e quindi questi primi due che qualche orbitale riempiono secondo lei il aspetti il 3s2 benissimo il 3s quindi sono tre due pieni quindi 3s2 poi ovviamente qui non c'è niente in mezzo vado subito sul 3 il 3p5 benissimo 3p 3 4 lo zolfo è 4 il quarto vede aspetti è solo che è piccolo non vedo lo so guardi un po' ok si il cloro sarebbe 3p5 giusto e allora eccolo qua 3s2 3p5 nessun problema stai tranquilla cara Margherita provi lei vedi il cripton è qui lo vedi il cripton esatto no non lo vedo prof perché ora lo vede perché io non vedo il suo indicatore ah certo naturalmente ma è difficile guardi quarta riga sì ultimo elemento ah ok hai visto è un gas nobile vedi che ho scritto lì vicino il gas un gas o gasosi e allora qui scriveremo il cripton anche di questi si può scrivere ovviamente la configurazione è il 36 allora vediamo un pochettino qual è l'elemento il gas nobile precedente il cripton l'argon e quindi qui scriverò AR giusto così poi cosa va dopo l'argon il 4s esatto è tutto pieno giusto quindi scriverò 4s 2 benissimo poi cosa riempio il 3d10 perfetto 3d10 e poi avrò di nuovo il 4p e quanti sono riempiti 6 ed eccolo qui è giusto Margherita ha visto si occhio occhio perché il Tommaso Ripamonti è furbo e se gli chiedo fammi la configurazione elettronica e il cripton lui sa cosa mi scrive lui mi scrive così e dice che bello ha risolto il problema ha visto eh il Tommaso com'è dica la verità è così è troppo facile però esatto così non vale neanche la candela giusto infatti naturalmente quando io chiedo la configurazione chiedo sempre quella riferita all'elemento precedente naturalmente al gas mobile precedente caro così è una domanda ma quello dello zolfo non dovrebbe essere 3p4 si primo scritto 3p5 perché avevamo detto il per errore era scritto per errore grazie era l'alice che ha parlato no marta scusi ma le voci non si distinguono lo sa benissimo a distanza lei alice ha proposito gli ha capiti sì sì benissimo lei martina mi sente sì guardi l'uranio dov'è lo vede l'ultima riga lì in basso 92 lo vede si chiama tidi perché vengono dopo l'attinio vengono chiamati anche transuranici ma non è il nome giusto perché ovviamente parto dal torio e non dall'uranio quindi l'uranio è 92 quindi qui scrivo U92 lei quindi qui che gas mobile scriverò in precedenza il radon esatto il radon rn non r a quello è il radio radon scusate radon allora poi cosa riempio ecco qua ingrandisco vede che dopo il radon ci sono questi due francia e radio quindi il 7s2 benissimo poi vede che c'è l'attinio sì che è nel blocco di giusto sì quindi cosa scriverò secondo lei 6 brava ma sono l'attinio lo so l'attinio 6d1 giusto sì poi passo dove c'è il quadro del triangolino quelli sotto e questi sono i 5f bene e che numero 3 3 esatto 5f3 in realtà le configurazioni elettroniche degli elementi non sono esattamente queste perché se voi cercate in wikipedia per esempio troverete che gli elementi hanno delle irregolarità per esempio potreste trovare per ipotesi l'uranio 7s1 6d1 5f4 cioè potrebbe riempire prima un elettrone di un altro orbitale perché ci sono delle anomalie energetiche due al fatto che gli elettroni oltre che con il nucleo interagiscono anche tra di loro però noi queste anomalie non le consideriamo noi le scriviamo come se ci fosse la regolarità della regola di Madelung che avete visto in questo modo ha capito tutti come lo chiedo da voi c'è qualche domanda? avete capito? lei signorina Deva ha capito? sì sì ho capito è come se la cavava con chimica bene bene allora siamo contento ok ricordatevi che gli elementi dal 100 in avanti il fermio se gli ultimi vengono chiamati anche super pesanti mentre quelli dal bismuth in poi sono quelli radioattivi ma non sono tutti artificiali quelli artificiali cominciano dal Nettunio più due precedenti che sono il Prometio una terra rara il 61 e il Tecneto Tecnetio il 43 qui nel blocco P che sono elementi radioattivi e sono stati e non esiste in natura poi vi spiegherò perché sono stati costruiti in laboratorio mi piacerebbe che come esercizio provaste a costruire le configurazioni periodiche di questi elementi il calcio li scelgo al momento il cadmio pensi che mattina che questo è intitolato al mitico re di di Atene Cadmo no re di Tebe scusi Cadmo poi vorrei che provaste a fare il il Polonio e infine il lei è mai stata in Giappone signorina Marta no mai sapeva che c'è un elemento chimico in Giappone nemmeno io sa che c'è un elemento chimico intitolato al Giappone no il Nionio uno degli ultimi scoperti eccolo qua finora sono fermi al 118 Loganessio in onore di un fisico russo ci sono indizi che si tocca il 119 e il 120 ma finora sono confermati e quindi l'ultimo è il Nionio 113 per la prossima volta provate a fare questi qua Nionio 113 il terzo l'ho scritto male avevo scritto il Polonio ragazzi Polonio vero sì il Polonio esatto il Polonio come vedete è l'84 vi metto anche i numeri il Cadmio è il i numeri atomici è il 48 e invece il Calcio questo è semplice è il 20 interrompiamo la registrazione è il 20 è un'altra è il 20